Era proprio un lupo. Avevano visto bene lo scorso mese di maggio i tecnici del settore caccia e pesca della provincia di Sondrio e gli agenti della polizia provinciale. La carcassa rinvenuta nei boschi dell'Orobie e Valtrinesi, sopra il castello dell'acqua, era un esemplare di lupo. Gli indizi portavano in quella direzione, la colorazione grigio-fulva del pelo, la tipologia delle ossa, la dimensione dei canini. La certezza si è avuta in queste ore. Il campione inviato in Trentino, l'unità di ricerca genetica della conservazione della Fondazione MAC, che da tempo effettua indagini mirate sui grandi carnivori sotto la supervisione della dottoressa Heidi Aufe, è stato esaminato a fondo e le prime analisi genetiche appena completate hanno confermato che quell'animale ha tutti gli effetti un lupo originario dell'Italia, appartenente, spiega Palazzo Muzio, alla popolazione che partendo dall'Appennino alla fine degli 80 ha ormai colonizzato del tutto le Alpi occidentali ed è presente stabilmente in Piemonte. La presenza del lupo non è una novità per la nostra provincia, spiega il Presidente Luca Dallabita, perché ormai da oltre 4 anni un maschio di questa specie, chiamato SO-M01, si è stabilito nelle zone orobiche fra Aprica, Teglio e Castello dell'Acqua, arrivando anche all'Alta Val Camonica e di questo esemplare sono state fatte diverse foto anche nei mesi scorsi. Non possiamo ancora sapere, aggiunge Dallabita, se la carcassa ritrovata appartenga a lui o un altro animale che è arrivato nella stessa zona e solo ulteriori approfondimenti genetici potranno dircelo. Sembra però, fa sapere alla provincia di Sondrio, che un lupo sia ancora presente sulle robe valterinesi, perché nelle settimane successive al ritrovamento della carcassa le guardie delle aziende faunistico-venatorie, della Val Bondone, della Val Malgina, della Val Belviso e Barbellino hanno trovato altri segni di probabile presenza del lupo, tracce sulle quali verranno effettuati accertamenti genetici. Il ritrovamento di Castello dell'Acqua, commenta Dallabita, conferma che questa specie animale sta ritornando ed è un segnale della buona salute del nostro territorio. La presenza del lupo, precisa il presente della provincia, non deve allarmare la popolazione, pochissimi sono stati danni al bestiame segnalati. La gestione dei grandi carnivori vede la provincia di Sondrio, con il suo personale tecnico di vigilanza, impegnati assieme al Parco dello Stelvio, all'ATS della Montagna, all'Istituto Zoo Profilattico di Sondrio.